Oroscopo di Seu Mercoledì 27 novembre Ariete L'erotismo avrà piccanti sfumature color rosso fuoco che si colorerà di rosa romantico e di viola con affinità totali. Il rosso non a caso è il vostro colore preferito o sbaglio? Toro Grandi pulizie nell'aria, solo chi vi ama vi seguirà e se sarete bravi e veloci a farle prima della fine dell'anno vi porteranno anche in premio il coronamento di un vostro vecchio desiderio. Gemelli Evitate le diete drastiche, trattamenti estetici aggressivi, ciò comporta dei rischi. Usate solo delle creme anti-age. In poche settimane le rughe si attenueranno. Le stelle consigliano alimentazione equilibrata, tanta ginnastica e molta idratazione. Cancro Oggi è il vostro giorno. Avrete un incontro importante e dimostrerete agli altri le vostre capacità oratorie. Sarete apprezzati da chi vi sta intorno. Fortuna al gioco. Leone Se siete single, è arrivato il momento di mettere radici. Impresa ardua. La maggior parte di voi del segno del leone sta cercando un rapporto non stabile alla toccata e fuga, anche se pretende fedeltà e sicurezza da chi avete accanto. Ma voi amate in questo periodo trasgredire perché vi diverte. Vergine L'amore è meno in primo piano. Nonostante tutto, qualcuno di voi potrebbe trovare ugualmente l'altra metà del cielo. Quindi mai dire mai. Le coppie datate vivranno un'altalena di emozioni contraddittorie. Bilancia Sorpresa Problemi in diminuzione e successi in aumento. Siate troppo scatenati. Farete tanto e forse troppo. Questo è il momento giusto. I tuoi desideri, amico della bilancia, inizierai a realizzarli tutti. Però rammenta che la parola d'ordine è calma e sangue freddo. Scorpione Ci sarà ben presto una verifica. Se siete affaticate o irritate, non vi preoccupate. Dai primi del prossimo mese tornerete ad essere voi stessi, come sempre. Avanzerete inesorabili e astuti verso i vostri obiettivi. Sagittario Sarete probabilmente vittime dei primi freddi, della pioggia, del vento, di una eccessiva mole di responsabilità. Sentirete infatti il bisogno di riposarvi, ma non sempre ne avrete l'occasione, poiché sarete sopraffatti dei troppi appuntamenti che voi avete preso. Capricorno Possono esserci problemi di circolazione sanguigna. I primi freddi non aiutano. Per questo motivo è bene evitare cibi troppo ricchi di proteine e di grassi. Predileggete una dieta a base di verdura e pesce. Acquario Potrete raggiungere obiettivi importanti nella professione, migliorare la vostra attuale posizione e risolvere vecchi problemi familiari. L'amore vivrà di contraddizioni, ma ci sarà anche tanta passione e tantissimo eros. Pesci Se la passione non decollerà impetuosa all'interno del vostro menage, rischiate di coltivare pericolose fantasie di evasione, e da qui a farlo davvero il passo potrebbe essere davvero breve, anche se siete e rimarrete degli inguaribili romantici. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.